UfficioPostale.it è l'Italia che cambia Presidente, ha faticato tantissimo L'avete provato più dei calciatori? S'ho distrutto, sono distrutto Un'emozione incredibile La vediamo commosso? Veramente I ragazzi mi hanno veramente commosso Non pensavamo di arrivare a questo epilogo Adesso ci abbiamo queste due partite Dovremmo ridare come sempre tutto quanto Quello che ci abbiamo Per dimostrare più che altro alla piazza Che noi ci siamo e noi vogliamo stare dentro E vogliamo essere sempre ai primi posti Come è giusto che la Samba ci sia Per quanto riguarda le regole dei ripescaggi E' chiaro che i conti si fanno In base ai posti Che rimangono liberi da Lega Pro In base a quelle che saranno Le non iscrizioni Ci saranno il numero dei ripescaggi Noi faremo del tutto Per far sì che la Samba Sia in Serie C quest'altro anno Poi vedremo La federazione deciderà Quello che lui ritiene più opportuno Senta, prima della partita E' andato sotto ai tifosi Che l'hanno chiesto In merito al pagamento Degli stipendi dei calciatori Lei ha risposto che è tutto a posto Sarà tutto a posto a breve? Io non ho nessun tipo di problemi Non lo so Veramente i tifosi non mi hanno chiesto questo Poi se mi hanno chiesto di idee Te lo dico Il tifoso Mi hanno detto solamente Se sono come sempre pronto A fare un confronto con loro Per altre cose Ma non penso che loro siano Il sindacato dei giocatori Poi se sono pure loro il sindacato Lo faremo Grazie Un altro anno il presidente Comunque ci sarà Serie C, Serie D Ma Serie D, Serie C, Serie A Sarò sempre qua Non mi cacciate Non mi cacciate